Buonasera a tutti ragazzi, sono... No scherzavo, sono... E scherzo ancora, sono Doom98 e ben ritrovati in questo nuovo video di Erzun. Volevo mostrarvi la nuova rissa, è qualcosa di fantastico, non ho parole per definirla. Eccola qua. Robobomba contro fastidio bot, due epici robot si sfidano. Voleranno scintille, scorrerà l'olio, scopri chi vincerà, robobomba o fastidio bot. Un'altra cosa, andiamo a una collezione personale perché ho sbustato un'epica, non mi ricordo quale sinceramente ragazzi. E anche una leggendaria, purtroppo non ho registrato perché ero da tablet. Questo è il premio perché ho vinto la stagione. Non so se si può disincantare. Ah si può, si può disincantare. 50, vabbè penso di disincantarla perché che cazzo ci faccio le carte dorate. Cioè mi c'è gatto il culo. Allora, ditemi cosa farne perché è davvero disgustosa questa leggendaria. Eccola qua, madonna! È terribile! Trasforma un altro servitore casuale in un gigantosauro 5-5 in uno squaiattolo 1-1. È troppo iolo ragazzi, è troppo iolo. In pratica, tu metti sto coso in campo e un servitore dell'avversario può trasformarsi in un gigantosauro, a me è successo. O in uno squaiattolo, ma questo può succedere anche ai tuoi servitori. Tutto casuale, non mi piace. Ragazzi, ditemi se la devo disincantare, io aspetto soltanto voi perché magari mi faccio il coso di difensore di Argus che è fortissimo. E altre carte che mi servono per Gul'dan, lui che sto usando, Sacerdote e Jaina. Ok, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo in Rissa. E facciamone una perché sarà sicuramente molto, anzi, è molto bella eh. Oh, sono una robobomba, preferire può essere... Quante fiche? Dai ragazzi, ma quanto è bella sta cosa, non ci posso credere. Pazzesco, la bo... no, ragazzi, è troppo bella, vabbè. Togliamo queste cose, mi serve un servitore. Preferivo essere il fastidio, bot. Va bene così, dai, bellissima sta Rissa, raga. Troppo bella, guarda il potere eroe quanto è figo. Il potere eroe infligge un danno a due nemici casuali, bellissimo. Iniziamo con... Perché dovrebbe essere epica questa? Spiegatemelo. Ah, perché è per Anduin. Infligge tre danni. Forse ho capito, vabbè. Ottieni più uno, più uno. Vabbè, iniziamo. Spargo energia attivata. Vabbè, ma quanto è bello. Tutte le frasi, poi. Olè. Spargo di uno, più danno. Più uno, più uno. Due, tre. Salve. Vediamo se mi risponde. Dai, risponde. Ciao, ciao, ciao. Eh, bellissimo. Demolitore, molto buono. Questo infligge due danni a... Fligge un danno a due nemici casuali. Ottimo. Olè. Quello che c'è il cavo. C'è rimesso scudi. Ottimo al potere eroe, ma anche questo è uno scherza. Perché... Ciao, ciao, ciao. Potere eroe fornisce scudo divino e provocazione. Altro servitore con l'attacco più basso. Non male. Attenzione, se vedo che quando attacca, genera quattro saluti al tuo eroe. Brutta, brutta storia. Mettiamo il demolitore. Beh, si attacco, rigenera prima e perde dopo. Quindi va bene così. Comunque perde qualcosa. Perde danni. Carlo Ragno. Devo liberarmi di questa cosa. Ah, che bello. Perfetto. Purtroppo recupero un po' di salute. E mi sbarazzo. Poi evoco o uno e tre o solo quattro. Solo quattro. E attacco diretto. Bellissimo sto deck di soli robot, raga. Questa non l'ho capita, sinceramente. DJ, sei danni di suddivisa su mente da tutti i personaggi. Tutti i robot. Dai, troppo bello. Eh, provocazione scusa. Bellissima. Non ci posso credere. No, perché? Questo è pochissimo, madonna. Proprio assurdo. DJ, sei danni da tutti gli altri personaggi. E se invece usassi questo... È molto meglio. Dai, buffo, dai! Oh, che sfiga! Mori. Purtroppo sono congelati. Ciuf, ciuf. Ciuf, ciuf. Ah, ma... Oddio, avete sentito come muore? Ciuf, ciuf. È proprio un robot... Bello. Beh... Bella giocata. Vediamo come risponde lui, se può. Dai, rispondi. Ciao, ciao, ciao. Ricerca avversario. Ciao, ciao, ciao. Avvicinati. Ascolta. Questo è Alex Chen. Il cinese, per eccellenza. Il sensei di ferro è bellissimo. No, perché gli sei arreso? No. Ho l'ottenuto. Ragazzi, facciamone un'altra. A quanto tempo stiamo? Possiamo permetterci... Possiamo permettercelo di farne un'altra. Un'altra rissa. Tre vittorie e ho anche dieci di denaro. Quindi, ragazzi, alla fine del video vi metterò... Vi metterò il pacchetto che aprirò. E visto che spazi tratta i robot... Ancora! Vabbè, sono robot bomba. Vorrei... Ciao, ciao, ciao. Aprire Goblin vs. Nyo. Ciao! Ragazzi, ti devi se disincantare quella monedza. Mi faccio sputafango. Non ce l'ho. Quello con provocazione vi ho detto prima. No, aspetta. Chi era? Chi era? Non mi ricordo, ragazzi. Purtroppo la memoria... Ah! Il difensore di Argus. Carino. Tocca a me come sempre. Stavolta. Non abbiamo nulla. Terminiamo. Intanto faccio un giro. Pegola esplosiva. E' una pecora bomba. Perché si è arreso il robot? Troppo bello, fastidio, bot. Bellissimo. Qual è il piano di volo? Qual è il piano di volo? Full del vento. Meraviglioso. Controli un robot? Eh, è bello questo. Lo devo prendere da Gopin versus Gnomes? Mi faccio Jaina... Jaina Poe. Più due attacco agli altri tuoi robot. Quel coso non muore però. Invece sì. 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 Bello così. Ma ma il figlio è due danni a quel coso. Oh. Cazzo. Vabbè, comunque... Carlo ragno. Va bene, Carlo ragno. Va bene. Il figlio è bastante. Dissi caso a niente tra i nemici. Sarebbe bello. Però non me ne tiene, sinceramente. Cosa fare? Cosa fare? Vabbè, proviamo. No. Anzi, sì. Dai, ma è troppo... Peccato. Vabbè. Digiamo il coso. Dai, è fatto... Oh, è un verso proprio... Non ho parole. Devi finirlo. Ah, è bellissimo. Avvicinate. Oscureta. Figge. Quanto dai, non si è veduto in un'inico naturale. Che è la prima? Ma è fortissimo sto coso. Ma è troppo forte. Oh mio Dio. Ma è troppo forte. Oddio, magari ce l'avessi. Perciò devo aprire Goblin vs Gnomes. Poi se anche mi esce Dr. Boom. Vabbè, ci vuole un miracolo. Che cazzo è? Bellissimo. Bellissimo. Ogni giocatore vi fa giocare un'arma casuale. Vida a bullone. Ha più due attacco fin tanto che controlli un robot. Eh beh, sono stato fortunato. Stora di robot non neanche uno. Eccolo. Ah, lìììì. E si va... No, devo usare questo. Questa l'ho giocata male. Lo ammetto. L'ho giocata uno schifo. Perché devo sacrificare... Questa l'ho giocata male. Purtroppo bastardo. No, vabbè. Intanto vinciamo lo stesso. A volte sparisco. Dai ragazzi, che noia. Che noia. Si... Si sbrighi. Chiesti, rinforzi. Carino. Cosa? Vabbè, è morto. Scontri. Cosa fa? Più due, più due. Un altro robot. Poi questo deve per forza essere sacrificato. Sì. Sistema difensivo attivato. Sistema difensivo attivato. Ragazzi, sbaglio potevamo vincere. No, questo potevamo vincere. Quello c'aveva cinque. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Cinque, ok. Questo turno possiamo vincere. Bella giocata. Lui cosa risponderà? Dai. Rispondi. Ciao, ciao, ciao. Ricerca bersaglio. Salve. E lui, ciao, ciao, ciao. Madonna, ragazzi, mi dispiace, ma... È... Troppo lento. Madonna, è bellissimo. Ciao, ciao, ciao. Ricerca bersaglio. Mi ricorda molto il dottor Eggman. Sì. Anzi, è il dottor Eggman. E' una delle macchine di dottor Eggman. Madonna, magari prendessi sto coso. È fortissimo. Ma ciao, tempo si è scaduto. Dai, che bello. Cioè, non per lui, però. Dai, ti prego di me. Ciao, ciao, ciao. Gli spagnoli è già attivato. Non mi dico che si ritira. Butta una carta. Muoviti. No, non voglio ucciderti così. Dai. Dai. Mi dispiace. Dai, vai a cagare. Bella giocata. E muori. Ragazzi, questa è la lista. Ci vediamo a tra poco con il pacchetto. E speriamo di... Dicendere qualcosa di buono. Questo pacchetto. Apriamo. Acquistiamo. E... Apriamo. Chissà. Ok, vediamo. Comune, comune. Rara. No, peccato. Ora, poi, già ce l'ho. Sbuffa neve. Mi seguiva. Rara. E... Bombarolo più pazzo. Ah, quello che volevo. Trigio, sei danni su divisi casualmente tra tutti gli altri personaggi. Bombarolo più pazzo, questo. Ah, tra tutti gli altri personaggi, ho capito. Ho sbagliato. Ho frinteso. Va bene, ragazzi. Disincantiamo le carte in eccesso. Vai così. Vi vedo se devo disincantare quella leggendaria. E ci vediamo al prossimo video. Vi 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 vediamo al prossimo video. Grazie.